Ed eccoci ritornati qui in diretta. Dunque, come dicevamo in apertura questa mattina, vogliamo continuare ad approfondire questa tematica ambientale, ecologica, importante, che soprattutto alla luce degli ultimi fatti occorsi in varie zone d'Italia, ma nello specifico qui a Vieste, sul Gargano, vogliamo collegarci e siamo in collegamento con l'Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone. Buongiorno, ben trovato Padre Franco. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti, ciao. Come stai Padre Franco? Bene, sono partito dal Gargano l'altro ieri, quindi mi trovo in Nord Italia, in famiglia. Bene, Padre Franco. Allora, purtroppo, diciamo, le vacanze sono state rovinate, nello specifico, ma a tante altre persone a causa di questo brutto ennesimo fatto che, insomma, dobbiamo registrare sul nostro amato Gargano, amato territorio. E purtroppo registriamo anche una coincidenza, direi, piuttosto, come dire, sinistra, mi passi il termine, perché ancora una volta il 24 luglio è una data che suona strana, perché già 17 anni fa c'è stato un incendio davvero di proporzioni enormi a peschici. Ecco, allora, lascio a te la parola, Padre Franco, per aiutarci un po' anche a capire lo stato d'animo del pastore della nostra Chiesa riguardo a questi fatti. Personalmente, in questi anni, da quando mi sento parte del popolo garganico, ho avuto più volte occasione di denunciare e di cercare di dire la mia e credo anche il pensiero della Chiesa locale su questi fatti che si stanno ripetendo con regolarità ogni estate e a volte anche fuori del tempo estivo. Quindi non sono più da considerare dei fatti saltuari o delle occasioni, ma a mio giudizio si tratta di una strategia di sicuro messa in atto da menti sfasate, da menti criminali, che hanno tutta l'intenzione di dimostrare che il territorio è loro e che sul popolo di questo territorio comandano loro. Diversamente non si spiega in un territorio come il nostro una percentuale così alta di incendi durante i periodi estivi e il continuo ripetersi. Poi quest'ultimo è stato appiccato di proposito, credo, in una giornata significativa e che ricorda fatti veramente di sangue, perché in quell'incendio del 2007, tra Peschici e Vieste morirono tre persone e molte rimasero ferite e fu veramente un disastro non solo ambientale, di cui ancora ci sono i segni per chi attraversa quella zona, tra Vieste e Peschici, ma segni e ferite rimaste nella gente e in tantissime persone che lo ricordano molto bene e che allontanò di sicuro parte del nostro turismo e lo mise veramente in crisi. Quindi io credo che di fronte a questo vada ripetuta ogni forma di condanna e di tentativo di modificare la logica e il pensiero del nostro e della gente, convincendoci che non possiamo fingere di nulla, non possiamo che ribellarci e cercare di far tacere questi poteri occulti o poco occulti che intendono dominare sul nostro territorio e condizionare la popolazione che vi abita. Dicevamo padre Franco della coincidenza sinistra che probabilmente aiuta anche ad avvalorare l'ipotesi della mano criminale, non l'incendio accidentale, perché già l'anno scorso era il 25 di luglio se non ricordo male, insomma siamo lì. Sì, era nello stesso periodo ed è stato sulla stessa baglia dell'anno scorso, ovviamente nella zona non direttamente colpita l'anno scorso, per ingrandire quello che era il territorio dell'incendio. La baglia di San Felice, a mio giudizio, se non è la più bella, è di sicuro tra le più belle di tutto il territorio garganico, di quelle più ricercate. Ci sono stati ben cinque tentativi prima di riuscirci a piccare il fuoco, quindi vuol dire che non può essere qualcosa di casuale o dato semplicemente alle condizioni meteorologiche per il caldo e per il vento. Le condizioni meteorologiche di eccesso di caldo e di vento forte ovviamente favoriscono, ma favoriscono una mano assassina che ha deciso di fare l'atto, non sono quelli che innescano o scatenano l'incendio. E poi, è chiaro, le altre cause lo favoriscono e lo sviluppano con più facilità. E non per nulla vengono scelte date e momenti particolari dove stiano insieme, a mio giudizio, le due cose. Il significato che può entrare nella mente del popolo con questa data e le condizioni meteorologiche di questo caldo che lo favorivano. Padre Franco, la Chiesa di Manfredonia di San Giovanni Rotondo, ecco ancora una volta anche attraverso un comunicato stampa in cui le parole dell'Arcivescovo, le tue parole Padre Franco, sono messe nero su bianco per certificare ancora una volta anche l'impegno non solo della Chiesa ma anche del territorio in generale perché per l'ennesima volta, nonostante questi atti criminali, c'è stata una grandissima prova di solidarietà perché ricordiamolo, più di 2000 persone, se non ho fatto mali calcoli, sono state evacuate. Sì, quindi è solidarietà verso questi fratelli e sorelle che cercano durante l'estate in questo periodo il nostro Gargano come luogo di riposo, di buona salute, di giuste ferie e vengono accolti con questi rischi assolutamente. solidarietà poi verso le strutture alberghiere, le strutture che ospitano e che vengono altrettanto danneggiate. Insomma è un danno enorme di immagine economico, di sviluppo imprenditoriale del nostro territorio che ha una particolare vocazione turistica e la vocazione turistica è una vocazione che rispetta il territorio e lo cura e non lo distrugge. Quindi gesti del genere vanno esattamente in direzione opposta e ovviamente non sono a servizio del nostro territorio bello e ricco com'è. Insomma sono a servizio di poteri che si interessano solo del loro privato e con ogni probabilmente preferiscono avere baglie dove si possa attraccare senza difficoltà per il commercio illecito delle droghe, delle tossicodipendenze dall'altra parte dell'Adriatico a noi e quindi allontanare certe altre utilizzi e forme. L'economia pulita potremmo dire in sostanza per chiudere. Certo, un'economia occulta e mafiosa ad un'economia invece di cura che è quella direi di una banneazione di un turismo di alto livello come da anni e da decenni il Gargano dimostra di saper fare e di poter addirittura migliorare ma purtroppo deve anche lottare contro questo altro potere che ha altri interessi e vuole su questo territorio altre basi che non sono basi di accoglienza ma sono basi di spaccio. Per chiudere, padre Franco, il Gargano è terra di pace, lo dimostra il fatto che ovviamente qui sono situati non solo due santuari tra i più importanti della cristianità ma anche il fatto che la stragrande maggioranza delle persone è gente laboriosa, gente che vuole lavorare, gente che vuole la pace. Noi vogliamo in qualche maniera continuare ad essere operatori di giustizia e di pace per chiudere come è giustamente sottolineato nel comunicato stampa che ci riallinea un po' su quelli che sono davvero i nostri target potremmo dire così. Certo, dopo tutto stiamo combattendo una guerra contro forze del male che segnano e feriscono il territorio e l'economia del Gargano in un certo modo e questi incendi ne sono chiaramente la manifestazione ma proprio perché combattiamo questo e per la nostra storia pensando ai due magnifici santuari di San Michele e di Padre Pio la nostra vocazione è quella di portare e di sollevare continuamente un grido di pace che parte dal Gargano ma raggiunge il mondo intero e la nostra esposizione mondiale e cattolica nel vero significato del termine nel significato sia religioso che etimologico lo deve dimostrare da noi parte un grido di pace, un grido di pace continua ce lo ha insegnato l'Arcangelo Michele ce lo ha insegnato e continua ad insegnarcelo con i suoi scritti e la sua presenza Padre Pio da Pietro Alcini e io aggiungerei Padre Franco anche di speranza visto che ci stiamo ormai incamminando siamo alla visilia dell'anno giubilare pellegrini di speranza e allora per utilizzare anche la parola due volte il verbo perlomeno speriamo che chi cammina non solo verso Roma ma anche verso il Gargano verso la Basilica di San Michele e di Padre Pio insomma impari a sperare si faccia pellegrino di speranza non solo quando viene qui ma quando partendo da noi ritorna poi alle sue case, ai suoi ambienti alle diverse chiese locali portando la certezza che la speranza è la virtù che costruisce il futuro e costruendo il futuro non fa altro che diffondere pace e giustizia che sono i due valori di cui l'umanità intera e in nostro territorio hanno particolarmente bisogno Da parte nostra tutto l'impegno tutta l'energia necessaria perché il Gargano è ovviamente tutto il contrario di quello che abbiamo visto ovviamente nei giorni scorsi Padre Franco io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi Grazie a Padre Pio TV e a tutti e continuate a diffondere questi messaggi come hai detto alla fine di speranza e che sottolineano veramente la vocazione e la missione del nostro territorio che è di costruire la giustizia, diffondere la pace secondo e nel nome sia della bellezza del territorio stesso che è una grazia che abbiamo ottenuto da Dio sia nella missione e quanto Pio, San Pio e San Michele ci hanno lasciato Grazie Padre Franco, buone ferie, buone vacanze Ciao a tutti e grazie a presto Grazie Buon estate Buon estate anche a te Padre Franco Speriamo che non ci siano più fuochi Speriamo, speriamo davvero Speriamo davvero Se non quello dello Spirito Santo Esatto Grazie, andiamo in pubblicità Ciao